e poi abbiamo una bella sorpresa e poi volevo ringraziare Kwanaki Menez che è arrivata dalla Colombia per fare il nostro film ci ha odiato perché ci ha 14 ore di Jack Legg alle spalle lei è un'attrice straordinaria ha lavorato con i più grossi registri del cinema italiano e gli attori perché con Verdone con Iso Banfi con Manfredi e a te e sono molto contenta di stare qua in questo film, vedo che il film è molto internazionale perché ci sono delle attrici e attori di tutti i paesi ci sono delle attrici arabe metà giapponesi, metà italiano della Colombia ci sono un caso un po' internazionale c'è Catherine che è bravissima in un polo molto 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 bello e sono contenta di stare qui compartendo con tutti questo hermoso film frisca frisca